Terminiamo adesso questa sezione con un ultimo esercizio Ovvero eseguiamo adesso un semplice container che contiene un web server Per cui ci spostiamo sul terminal dell'host Come esercizio eseguiremo Nginx Per cui andiamo sulla macchina, in questo caso sto utilizzando una macchina Windows In cui ho già effettuato lo switch verso i Linux container Adesso apro il prompt dei comandi cmd, destro, run as, esegui come amministratore Ok, e adesso digitiamo il comando Quindi docker run Possiamo mettere l'opzione meno d A questo punto effettueremo il mapping delle porte Vedremo poi esattamente che cos'è Meno p, 80, due punti, 80 E la nostra immagine, Nginx in questo caso E premiamo invio Il container a questo punto è in esecuzione Docker ps e lo possiamo vedere in esecuzione Come possiamo osservare abbiamo effettuato il cosiddetto mapping delle porte Che è un argomento fondamentale Che riprenderemo poi in maniera molto dettagliata nella parte, nella sezione del networking Tuttavia praticamente abbiamo mappato la porta 80 del nostro host Con la porta 80 del nostro container Per cui adesso noi ci connetteremo su qualsiasi Su localhost Perché come possiamo vedere qui abbiamo 0.0.0.0 Che indica qualsiasi indirizzo IP Sulla porta 80 Per cui adesso apriamo un browser Digitiamo quindi ad esempio localhost HTTP Che automaticamente essendo HTTP andrà sulla porta 80 E come possiamo osservare Il nostro web server è in esecuzione Per cui abbiamo effettuato il mapping delle porte E stiamo interagendo con il container Nel senso che abbiamo esposto la porta del container Con la porta del nostro host fisico E questa è un'operazione che ci servirà moltissimo E che approfondiremo appunto nel seguito del corso Perché ci permette appunto di interagire con il container E di poter quindi svolgere delle operazioni In questo caso adesso come possiamo osservare Abbiamo mappato sulla porta Abbiamo mappato l'host sulla porta 80 Adesso stoppiamo il container Quindi ci prendiamo l'ID Lo copiamo Digitiamo il comando Docker Stop ID A questo punto il container non è più in esecuzione Quindi se io provo a ricaricare la pagina Anzi chiudiamo il browser Altrimenti resta in cache Quindi riavvio una nuova finestra E ovviamente adesso non possiamo più accedere A questo punto come test Cambio la porta di mapping dell'host fisico Quindi anziché la porta 8080 Vado sulla porta Scusate sulla porta 80 Vado sulla porta appunto 8080 Invio Adesso se io provo ad andare qui Sul localhost non riuscirò ovviamente ad andare Perché ho effettuato un nuovo mapping Sulla porta 8080 Per cui copio Control C Nuova scheda Due punti 8080 Ops 8080 Invio E adesso come possiamo osservare Posso di nuovo accedere Visualizzare il mio web server Torniamo per un momento sulle slide E leggiamo quanto spiegato qui Il port mapping Il port mapping è un argomento che tratteremo nel dettaglio nel seguito di questo corso Giusto una spiegazione preliminare Il comando Meno p 80 80 8080 Associa la porta del container con la porta dell'host sul quale stiamo eseguendo docker Qui ho fatto un altro esempio Comunque La porta 80 Questa porta 80 È la porta dell'host E questa è la porta del container Nell'esempio stiamo mappando la porta 80 dell'host con la porta 80 80 del container L'associazione avviene sempre secondo questa logica Porta dell'host Porta del container Quindi sempre Abbiamo sempre a sinistra la porta dell'host E a destra la porta del container Non dobbiamo confonderci perché spesso succede Significa che tutto il traffico che arriverà sulla porta 80 dell'host Sarà rediretto sulla porta 80 80 del container Questo è un argomento fondamentale che verrà ripreso nel dettaglio successivamente Come ho già detto Quindi tutto il traffico che arriverà sulla porta Quindi torniamo per un momento sulla macchina virtuale Docker ps Tutto il traffico che arriverà sulla porta 80 80 dell'host Questo 0 0 0 sta a identificare tutto il traffico Sulla porta 80 80 freccia Ovvero il flusso verrà rediretto Sulla porta 80 del mio container Ovviamente una porta protocollo TCP Non stiamo parlando di altri protocolli al momento Quindi questo per quanto riguarda il mapping E l'esecuzione di un web server Ci vediamo nel prossimo video